Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Un referendum, anzi due per ripristinare la costituzione violata di un'Italia che ufficialmente ripudia la guerra, ma dove a lato pratico il ripudio non è un vero e proprio principio perché dipende da chi sono gli attori della guerra, degli attori in gioco. Diciamo un ripudio, potremmo dirlo, a geometria variabile. Ne parliamo oggi con due dei principali promotori ed esponenti di questi referendum, Enzo Pennetta qui dò il benvenuto. Grazie, invito, buonasera. Docente, portavoce del comitato Ripudia la guerra, benvenuto a Ugo Mattei, giurista, presidente del comitato Generazioni future, benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, la domanda, questo referendum è iniziato il 22 di aprile, quindi è in pieno corso, durerà fino a metà di luglio, però volevo chiedere prima di tutto la domanda più logica, più ovvia, Enzo Pennetta, perché avete deciso di organizzare un referendum contro l'invio delle armi in Ucraina? Perché in estrema sintesi il frulcro a cui ruota tutto attorno è l'invio delle armi in Ucraina? Allora, direi che ci sono due motivazioni. Una delle due è che il Parlamento, tra maggioranza e opposizione, sta agendo in maniera contraria a quella che è la reale volontà di una larga maggioranza degli italiani. In questi casi la Costituzione mette a disposizione, questo Matteo potrà dirlo ancora meglio, lo strumento del referendum in maniera tale che la volontà popolare possa essere stabilita e eventualmente una legge che non rispecchia la volontà popolare possa essere abrogata, come in questo caso la legge che consente l'invio delle armi in un paese in conflitto e nello specifico caso in Ucraina. Seconda cosa è perché questo tipo di scelta politica ha in sé un errore enorme di fondo, in quanto punta alla risoluzione del conflitto tramite la sconfitta di un paese come la Russia che disponendoci al maggior detentore di armi nucleari del pianeta, una sconfitta capiamo che implica una terza guerra mondiale, quindi non è una vera soluzione. Noi di fatto chiediamo che si segua la strada delle trattative intanto di un cessato del fuoco immediato, per cui la cessazione di invio di armi dovrebbe essere accompagnata con una richiesta di cessato del fuoco e poi con delle trattative che sembrano essere veramente la parolaccia da non dire in questo contesto, chiunque parli di trattative viene accusato di tradimento, di simpatizzare per la Russia, mentre invece è quello che normalmente avviene, ma le trattative si fanno primo quando la guerra non l'hai vinta, quindi chiedere di prima vincere la guerra e poi fare trattative è un cortocircuito logico, seconda cosa, dei trattativi si fanno fra due soggetti che ritengono di aver ragione entrambi, per cui dire ma l'altro ha torto, per cui non tratto, anche questo è fuori dal mondo, allora se l'altro, se uno dei due ritiene che l'altro ha ragione, gliela dà e finisce la storia, evidentemente entrambi hanno delle loro ragioni, quindi sia da un punto di vista proprio rappresentativo e democratico sia da un punto di vista come scelta politica, questo invio di armi è assolutamente un disastro e per cui abbiamo questo strumento che la Costituzione ci mette a disposizione e quindi abbiamo contemporaneamente e parallelamente deciso di utilizzarlo. Certo, è un referendum a Mattei che come diceva giustamente Pennetta adesso per dar voce alla maggioranza degli italiani, perché la maggioranza degli italiani e i sondaggi, lo dicono tutti, vengono pubblicati una volta ogni tanto torto collo da TV e giornali, perché evidentemente devono portare avanti una narrativa di tipo diverso, per dar voce alla maggior parte degli italiani in pratica. Guarda, una cosa sono i sondaggi, una cosa sono i fatti politici e i fatti giuridici, è vero che i sondaggi danno in questo momento una grande maggioranza al popolo italiano, ma noi questo dobbiamo verificarlo con dei fatti giuridici e politici, che sono estremamente difficili da raggiungere, perché mezzo milione di firme e tante ne servono per ciascuno dei referendum presentati, ma la speranza è che le persone vanno a firmarne uno e li firmino tutte e due, o come vorrebbe Generazioni Futura addirittura ne firmino un terzo, che è quello di dare un'indicazione politica per l'uso di questi soldi, non per gli arsenali, ma per gli ospedali, quindi di immaginare anche delle forme di collaborazione differenti rispetto ad inviare le armi. Mezzo milione di firme sono tante da prendere, vuol dire una firma ogni 100 persone in Italia, ogni 100 elettori italiani, quindi chi di noi, e lo stiamo facendo sicuramente sia Enzo che io, siamo in campo, in strada, ai banchini tutti i giorni, in giro, eccetera, ci rendiamo conto che la pubblica opinione è stata manipolata in modo non indifferente, non tanto sul merito della questione, quanto proprio sull'arrivare a discuterne. Sembra quasi che la popolazione abbia, si sia disabituata ad affrontare dei temi politici importanti, non pensi più che siano questioni che la riguardano direttamente, pensano in qualche modo in modo rassegnato. Io me ne accorgo soprattutto, adesso in questi giorni abbiamo fatto un sforzo di raccolta nel campus universitario, dove sono ragazzi di vent'anni, e davvero bisogna fare fatica per incominciare a parlarne. Poi quando ne parli vengono, firmano, lo capiscono e si impegnano. Ma il ventenne medio non sa che cosa sia il referendum, non ha visto un referendum di successo negli ultimi anni. Io ci stavo pensando l'altra sera, quando abbiamo vinto l'ultimo referendum, quello sull'acqua pubblica, questi miei studenti avevano dieci anni, quindi non ne hanno proprio parlato in casa. Quando noi siamo cresciuti, quelli della nostra generazione, c'era stato un referendum sul divorzio, un referendum sull'aborto, un referendum sul nucleare, in qualsiasi famiglia italiana si discuteva di queste cose, la RAI faceva delle tribune del referendum, insomma erano diventate dei fatti politici nazionali. Qui noi stiamo combattendo una battaglia difficilissima, perché se è vero che la maggior parte della gente poi magari ci darebbe ragione, è altrettanto vero che trovare una minoranza di persone che si impegnino venendo a firmare, superando le difficoltà tecniche che ci possono essere, e diano effettivamente una mano per raggiungere la famigerata o famosa quota dei 500 mila, è una partita di per sé molto complessa. Io credo che trasmissioni come la sua, incontri come questi, abbiano lo scopo non tanto di convincere le persone del fatto che la guerra è una bruttissima cosa, che nel 2023 non bisognerebbe risolvere le controversie internazionali con l'uso della guerra, che la nostra Costituzione non vuole questo, che la legge del 1990, oggetto di uno dei nostri due referendum, era proprio un'implementazione dell'articolo 11, quindi vietava che si potessero trasferire armi in teatri di guerra attivi, e i governi, prima Draghi e poi Meloni, hanno dovuto infatti derogare a questo divieto, che era un divieto che traduceva la nostra Costituzione, e vi hanno ovviato anche perché la legge che struttura tutto quanto consente ai governi di farlo senza neppure bisogno di un voto parlamentare. Quindi noi in questo pacchetto Italia per la pace abbiamo affrontato due tematiche, uno diciamo quella della condizione giuridica sottostante, in che modo si può derogare al principio per cui non si butta la benzina sul fuoco, e l'altra è quella, la benzina sul fuoco che abbiamo buttato questa volta, riusciamo a toglierlo o non buttarne più, no? Perché chi dice che si può fare la pace dando le armi pensa di poter spendere un incendio buttandoci sopra della benzina, sui teatri di guerra si deve buttare dell'acqua, non della benzina, e le popolazioni civili si possono aiutare con strumenti molto diversi rispetto a quello di dare armi, che poi vedi non sono neanche le armi come erano date, spesso si fa il paragone con i partigiani nella Seconda Guerra Mondiale che resistevano in montagna e bisognava dargli le armi, ma questi non stiamo parlando di dare dei kalashnikov o delle armi che possono usare i popoli per difendersi, qui stiamo parlando di sistemi d'arma sofisticati che richiedono apparati militari addestrati, non è più la stessa cosa di una guerra di resistenza come quella che poteva essere stata a quei tempi, sempre che la si voglia considerare una guerra di resistenza, quindi si usa tutto un immaginario che un immaginario che non corrisponde alla situazione attuale. La verità è che noi stiamo giocando col fuoco in un teatro pericolosissimo, noi abbiamo tutti un'età per cui ci ricordiamo la tragedia di Chernobyl che era in Ucraina, con un fallout nucleare minimo rispetto a quello che potrebbe essere da un qualsiasi mini incidente nucleare, anche soltanto non voluto, e che ha rovinato la tiroide a un'intera generazione di donne italiane, perché comunque l'impatto di un fallout nucleare è drammatico anche sulle popolazioni italiane. E qui invece si raccontano le cose come se stessimo parlando di qualcosa che succede molto lontano, che non è in Europa, e qualcosa che si può risolvere solo in quel modo lì. Questo non è vero. Ci sono, e aggiungo solo questo, giusto perché tanti dicono ah ma c'è l'obbligo internazionale eccetera, ci sono paesi della Nato e paesi dell'Unione Europea che non hanno mandato neanche una rivoltella a scacciacani. La Turchia è un paese della Nato e non ha dato nulla. quindi la scelta di dare armi è una scelta politica dei nostri governi e in quanto tale come scelta politica, una scelta discrezionale, che noi abbiamo tutto il diritto e il dovere di sfidare attraverso un referendum. Quindi queste chiacchiere per cui non avremo legibilità, non si potrebbe far diverso, sono fasulle, servono a costruire una narrazione che impedisca eventualmente allo nostro sforzo di andare a buon segno. Certo. La difficoltà a far attecchire, a far passare il messaggio, Pennetta, è che inviare le armi è doveroso perché bisogna aiutare un paese aggredito nei confronti di un invasore. Allora innanzitutto... Però i rapporti di forza in campo consiglierebbe buon senso, voglio dire consiglierebbe una trattativa in realtà, non un invio di armi, perché allora lancio anche un elemento. I giorni scorsi il generale responsabile delle forze americane qui in Europa, Christopher Cavoli, ha proprio ammesso l'esercito russo è a tuttora intatto. Quindi, diciamo, inviare armi, non lo so, mi sembra che sia un voler farla continuare la guerra, perché, insomma, dall'altra parte la Russia sta combattendo un conflitto che per loro è esistenziale. Diversi spunti su questa cosa. Prima cosa, all'obiezione bisogna dare le armi perché un paese aggredito deve essere messo in condizioni di difendersi. Eventualmente non voleva, nel caso dell'Iraq, della Libia, dell'ex Yugoslavia, che risultavano liberati, secondo loro. Però, a parti invertite, quello che succede lì avrebbero dovuto avere armi per difendersi dalla NATO o dagli eserciti, che comunque in quel caso aggredivano. Nello Yemen, prendiamo un caso dove non c'entra niente la NATO. Non mi pare che qualcuno abbia chiesto di dare armi agli Yemeniti per difendersi dalla rabbia saudita. Per cui è un'argomentazione evidentemente molto, molto pretestuosa, perché non vale sempre. Seconda cosa, vengo a quello pure che stavi dicendo e ci rilasciamo a prima. Pretendere di aumentare la forza contro un paese in grado di aumentarla in maniera indefinita significa ignorare le leggi della fisica, il principio di azione e reazione, per cui a ogni innalzamento del livello di scontro da parte dell'Ucraina corrisponde innalzamento di risposta da parte russa. Ora, io credo che veramente la pallace di questo atteggiamento si capisce in un modo semplice. Ma se anziché mandare armi fossero i nostri soldati a dover supportare questo scontro facendo cadere sul campo degli italiani, riterremmo ancora che questa è la strada migliore oppure cercheremmo appunto di negoziare, di trovare altre strade. Ecco questo qua è anche un aspetto molto impressionante di questa vicenda, cioè appunto si combatte fino all'ultimo Ucraino. però è una scelta che non è a favore del popolo ucraino perché sta subendo una tragedia amplificata da questo tipo di atteggiamento. Ecco, ma quando poi si dicono appunto le cose c'è l'obiezione, quella sai con la frase fatta c'è un aggredito e un aggressore e non si va fra l'altro indietro al 2014 quando tutto è cominciato e devo vedere che la situazione è un po' più complessa di così. C'erano degli accordi di Minsk che non sono stati fatti valere, per cui è una riduzione a slogan che è molto tipica della nostra epoca. Cioè tutte le grandi questioni, e questa è una colpa gravissima della stampa, dei grandi media, di ridurre tutto quanto a slogan, per cui quando fermi una persona per strada che non conosce dell'iniziativa, se c'è in mente lo slogan è chiusa la possibilità di dialogo. Ciò nonostante devo dire che l'esperienza proprio sui banchetti ci fa vedere che ci sono molte persone che non sanno nulla perché questa cosa viene taciuta. Ricordava giustamente di Mauco Mattei, ma io mi ricordo i referendum degli anni 70. andavano sulle reti nazionali. Adesso sono nascosti. Perché? Perché rendono difficile 500.000 firme. Io mi aspetto che dopo questo referendum possa addirittura passare l'idea che debbano alzare il tetto delle firme. Nel senso, è uno strumento che evidentemente non piace per niente. Si fa di tutto affinché non funzioni per scoraggiare le persone. Quindi, rispetto agli anni 70, questo dibattito al momento non compare sulle reti nazionali, se non proprio sporadicamente perché un invitato volutamente lo tira fuori. Quindi adesso noi combattiamo contro una informazione, non proprio disinformazione anche, ma una non informazione che migra a far fallire la raccolta delle firme. Ecco perché, grazie appunto per trasmissioni come questa, dovremo ripetere tutto il tempo di attivarsi per far firmare, perché intorno a noi tutto rema dal punto di vista della stampa in direzione contraria. Sì. Il sistema, Mattei, tema il referendum. Sarebbe uno strumento di, diciamo, di democrazia diretta dove il popolo può incidere direttamente, no? Avete interloquito per iniziare in fase di costituzione di questo, di organizzazione di questo referendum? Avete interloquito con delle forze politiche? Assolutamente sì. O avete deciso, in qualche modo, volutamente o meno, diciamo, o per necessità di fare una cosa proprio di iniziativa popolare? No, no. Allora, è una cosa assolutamente di iniziativa popolare, anzi popolarissima, nel senso che siamo partiti proprio completamente buttando lì una proposta al popolo e vedendo quello che succede. Anzi, ancora adesso abbiamo buttato la proposta al popolo e quindi è bene che il popolo si documenti, vada sul sito di generazioni future, vada sul sito di ripudia alla guerra, si documenti su quello che può fare, si metta a disposizione, utilizzi i propri social per dire alla gente che c'è il referendum. Questo lavoro è fondamentale. Cioè, se riusciamo a far partire una specie di tam tam delle persone che ne parlano, quando poi incontrano un banchetto, quando poi magari vanno online, firmano. Se le persone non ne sanno niente, diventa un tale dispendio di energie. Calcola che 500.000 firme significa raccogliere mediamente 7.000 firme al giorno. Ok, di qui alla fine della campagna. Ora, per dire, abbiamo raccolto tantissimo nella città di Pesaro, in un grande evento che c'è stato, quello sui biolaboratori, in cui c'eravamo sia io che Enzo, ma totalmente, scrivendo come i pazzi tutto il giorno, abbiamo raccolto 780 firme, ok? Quindi stiamo parlando di numeri molto importanti che ci attendono e che dobbiamo raggiungere e che possiamo raggiungere soltanto se le persone davvero capiscono che non basta dire, sì, sì, avete ragione, io magari firmo. Ciascuno deve fare un pezzo di strada con noi, perché non puoi pensare che se non succede un effetto valanga, un effetto veramente virale di questa iniziativa, se davvero le persone che hanno a cuore la pace non se ne prendono carico, con cura, come si fa di un bene comune, come una grande campagna di partecipazione democratica, non riusciremo a fare il risultato. Quindi questo è molto importante. Noi siamo partiti in modo supercivico, ma abbiamo sempre detto che non avremmo escluso partiti politici, tant'è che ci sono dei partiti politici che ci sostengono fin dall'inizio, che so io, ancora Italia, per esempio, piuttosto che resistenza radicale tra i piccoli partiti dell'ambito, diciamo, del dissenso, ma anche l'altro giorno, l'altro ieri proprio, Rifondazione Comunista ha votato l'unanimità di raccogliere le firme, la stessa cosa ha fatto l'Unione Popolare, quella guidata da Luigi De Magistris, il Movimento 5 Stelle in determinate regioni sta raccogliendo in modo organico, dato il fatto che il leader Conte ha detto di voler firmare il referendum, quindi anche se non ha ancora preso, diciamo, una posizione ufficiale, quindi noi l'interlocuzione l'abbiamo mantenuta aperta. Io ho cercato il leader dei Verdi per spiegargli la cosa, lui mi ha detto che con i Novaks non si mette, capito? Cioè, praticamente, questa è stata la risposta. Cioè, stiamo parlando di un barbarimento... Questa è una cosa trasversale... Stiamo parlando di un barbarimento delle scene politiche abbastanza imbarazzante, francamente, nel senso che questi sono i referendum che sono sostenuti da un'ampia pezzo dell'intellettualità italiana, abbiamo da Franco Cardini a Rovelli che ha firmato, abbiamo dei sacerdoti come Alex Notelli, abbiamo Don Ciotti, credo che abbia firmato. Insomma, c'è un ampio scenario di persone che, per una ragione o per l'altra, hanno firmato ora per l'uno, ora per l'altro comitato, ora per tutte e due. Ci sono giuristi di fama, insomma, quindi stiamo parlando di una cosa molto seria, sicuramente che è stata studiata bene, in modo articolato, eccetera. E' chiaro che, come un po', secondo me, le cicatrici della vicenda della gestione pandemica e della separazione, diciamo, che è stata costruita su persone, diciamo, particolarmente, come dire, incapaci di apertura intellettuale, di evolvere nel proprio pensiero, come producono dei cortocircuiti di quel tipo. Noi abbiamo fatto un discorso molto trasversale, per esempio, c'è un leader della destra, come l'ex sindaco alemanno di Roma sta raccogliendo le firme. Quindi questo è proprio un nostro tentativo di, come dire, di dimostrare che su questa questione, che è una questione costituzionale, non c'è colore politico. C'è l'interesse nazionale contro l'interesse dei poteri militari che sono di area atlantica statunitense, che hanno un interesse a tenere aperto il conflitto per tutta una serie di ragioni geopolitiche molto complicate, fra le quali mettere in ginocchio l'economia europea, farci pagare il gas in una cifra pazzesca. Noi ci accorgeremo poi, perché poi dopo i conti della guerra li pagano i popoli. E noi stiamo spendendo 80 milioni di euro al giorno per l'apparato militare in Italia. 80 milioni di euro al giorno. Noi stiamo rifinanziando l'apparato militare di 14 miliardi nei prossimi due anni a fronte di una riduzione dei finanziamenti per la sanità pubblica di 4 miliardi nei prossimi due anni. Si sta anche parlando della possibilità di utilizzare i soldi del PNRR. No, no, non si sta parlando. Siamo al paradosso dei paradossi. È già deciso, non è che si sta parlando. È tutto in totale continuità con la gestione emergenziale del 2020. C'è una continuità totale dal punto di vista di quelli che sono gli interessi in campo. Allora, o riusciamo a superare anche culturalmente queste contrapposizioni che non hanno nessun senso, perché qui non c'è destra contro sinistra, ma c'è semplicemente l'interesse generale, l'interesse popolare rispetto agli interessi del settore corporate e superiamo questo stallo e riapriamo delle interlocuzioni a tutto campo. Riusciamo ad uscire, diciamo, dall'angolino nel quale cercano di rinchiudere il movimento delle persone che hanno dissentito in questi anni, oppure è molto difficile che riusciamo a capitalizzare questa maggioranza di popolo che certamente c'è, ma una cosa che ci sia in astratto una cosa che ci sia poi in concreto, come fatto politico-istituzionale. È un po' quando dici quel diritto c'è nella Costituzione. Certo, c'è nella Costituzione, però se la Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica non lo applicano è come se la Costituzione non ci fosse. Stessa cosa, la maggioranza del popolo espressa da un sondaggio è una cosa, farlo diventare un fatto giuridico-politico richiede lavoro. Lavoro politico. Aveva parlato poco fa del Movimento 5 Stelle e del loro leader Giuseppe Conte, che da come mi sembra di aver capito dalla sua descrizione è in fase di riflessione in merito al referendum. Voi confidate che lo possono appoggiare ufficialmente? Enzo, se vuoi dire tu come la vedi questa storia. Sì, noi dobbiamo usare questo termine, stanarle queste forze politiche, perché ho l'impressione che il tentativo sarebbe quello di fare un po' i pesci in barile, perché in questo modo non scontenti nessuno, e invece bisogna chiamarli a prendere una posizione chiara. Allora, sei a favore o no? Io non mi aspetto che Fratelli d'Italia votino il referendum, perché il loro partito al governo sostiene questa politica, ma gli elettori sì. Cioè, quel 60% dei sondaggi ci dice che ci sono anche elettori del governo che vogliono votare contro. Io credo gli elettori di un po' tutti i partiti probabilmente, magari in percentuale maggiore più uno di un partito che di un altro. Se no, quel 60% non si spiegherebbe. Però bisogna andare oltre. Sono dei partiti che non sono di maggioranza, perché ripeto, lì ci stanno delle dinamiche che è inutile spiegare, ma dei partiti di opposizione, lì non hanno vincoli di coalizione e cose del genere. Per cui soprattutto un 5 Stelle, che comunque sia, conta ancora un 17% dell'elettorato. Beh, deve dire cosa vuole fare su questo tema. Perché non può rimanere vago. È chiaro che, insomma, una decisione, ad esempio, Virginia Raggi è andata, ha votato a Roma, no? Quindi o il partito si spacca, che non credo che nessuno ami far spaccare il proprio partito su una questione così importante. Oppure mi auguro che prenda al più presto una posizione. D'accordo? E poi che succede? Se una cosa del genere accade, c'è anche un po' di posizionamento, se si comincia a vedere che magari il vento tira un po' da una certa parte, anche per opportunismo. Diciamo, alla fine, no? I meccanismi sono anche di quel genere. Ecco, però io la solliciterei una posizione. Un no o un sì? Beh, per serietà i partiti dovrebbero dirlo. E quest'ultima cosa che ho detto, per serietà però mi lascia qualche dubbio, perché non faccio tristemente, sono affidamento molto spesso sulla serietà, perché chiaramente, insomma, ne abbiamo viste di diversi tipi, no? Però l'apertura c'è a tutti. L'abbiamo detto fin dal principio. I comitati sono senza bandiera politica, ma è senza bandiere per far sì che qualunque bandiera si possa raccogliere intorno, mettere banchetti e raccogliere firme. Per cui noi siamo non solo con le braccia aperte verso questo supporto, ma come ho detto prima, io credo che per serietà i partiti, un sì o un no, dovrebbero dirlo. Sì. E dove si può votare Pennetta, Enzo Pennetta? Allora, le modalità… Diamo delle indicazioni pratiche alle persone, in modo che sanno come agire. Allora, sia sui siti delle generazioni future che del PD della guerra ci sono le indicazioni per A, preferibile, i banchetti, perché? Perché c'è anche una valenza, secondo me, nella partecipazione fisica, nel mostrarsi, perché fra l'altro il banchetto forse è l'unico momento in cui tantissima gente può sentire parlare del referendum. Per cui, anzi di più, non solo votare, ma chiedete di organizzare banchetti, chi ha un minimo di gruppo di persone, chiedete di organizzare banchetti. Prima possibilità, e ci sono delle mappe che danno giorno per giorno dove trovarli. Dopodiché abbiamo i municipi. Allora, chiaramente pure lì bisogna vedere se proprio il municipio ha recepito le schede, le hanno stampate, però si può andare e domandare se si può firmare il municipio. E l'ultima e grande differenza rispetto ai citati referendum degli anni 70, questa volta la firma online. Beh, crediamo che persone che magari non si possono muovere o hanno orari che non si conciliano con il banchetto, oppure stanno in un paese dove non è stato possibile organizzare in altro modo. Bene, la firma online è un potentissimo strumento e possiamo anche sollecitare i più pigri. a un costo di un euro e mezzo, diciamolo subito, non va niente in tasca ai comitati, hai visto furbacchioni così? No, non prendiamo un centesimo di quell'euro e mezzo perché sono le spese della piattaforma che fra l'altro fa una autenticazione. Bene, quindi queste le modalità. Fisicamente si può firmare, non ci sono problemi operativi per farlo. comunque è online o con lo speed o con la carta d'identità, oppure una firma guidata con un operatore che costa un po' di più perché un euro e mezzo e più perché c'è anche l'operatore. Però ecco, i modi ci sono. Bisogna assolutamente appunto farlo arrivare alle persone e far capire l'importanza enorme che ha questo referendum sul futuro immediato di tutti noi. Da qui al 15 luglio, data che vi siete dati come scadenza, ovviamente l'auspicio che il dibattito e l'interesse cresca ai monti sempre di più, quindi da qui al 15 luglio in queste settimane, in questi due mesi dove possono accadere tante cose, quindi magari vedendo i partiti che possono correre il rischio anche, perché tutte le strade sono buone credo per raggiungere il numero, che magari vedendo che le persone cominciano a essere critiche, cominciano a difidare di partiti che tutto sommato non si oppongono all'invio delle armi per non dire che sono favorevoli, vedano che magari nei sondaggi, non si sa mai, nei sondaggi questo comincia a influenzare l'indice di gradimento, perché in questi casi io credo che non si butta niente, torna tutto buono. Il tema è così importante dove qui veramente bisogna mettere da parte qualsiasi divisione e qualsiasi distinguo. Io vi ringrazio molto, confido, anzi vi invito già a un prossimo appuntamento anche per fare il punto della situazione, per vedere come si sta evolvendo e come sta andando il referendum, per ora io ringrazio molto il giurista Ugo Mattei, il presidente del comitato Generazioni future, grazie. Sì, forse aggiungiamo, scusa per i tuoi ascoltatori, che il sito, la piattaforma su cui si può votare online si chiama itagile.it, quindi uno va su itagile.it, trova un elenco dei vari referendum che si possono firmare, ce ne sono due sulla guerra, uno sull'Ucraina e Generazioni future Italia per la pace, uno sulle basi giuridiche di ripudio alla guerra Italia per la pace, c'è poi anche un referendum per spostare gli eventuali risparmi, chiamiamoli così, della guerra sugli ospedali, meno arsenali più ospedali. Itagile.it è importante per poter partire, diciamo, e fare una prima partecipazione. Poi tutto il resto è benvenuto, grazie. Perfetto, itagile.it, grazie a Enzo Pennetta, docente portavoce del comitato Ripudia la guerra, se hai un ultimo messaggio da dire come ha fatto Ugo Mattei, benvolentieri lo spazio è qui a disposizione. No, solamente votate, firmate e fate firmare. Grazie per l'invito. Assolutamente, assolutamente e a presto, rivedervi qui al vaso di Pandora. Grazie, grazie ancora, grazie a tutti voi. Grazie mille. Grazie a tutti.